Il tifoso vuole sapere ogni giorno tutte le notizie della Juve? Allora lascia il tuo mi piace e iscriviti per essere sempre informato sulle novità della Juventus. Si vocifera che Gianluca Petracchi sia il nuovo direttore sportivo del prossimo ciclo bianconero. Dopo il momento travagliato che la Juventus ha vissuto negli ultimi mesi, la Juventus è ora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e Gianluca Petracchi è il nome giusto per subentrare nel posto vacante. Secondo le informazioni, Petracchi potrebbe subentrare a gennaio quando il nuovo CDA della Juventus muoverà i primi passi per configurare il club del futuro. Gianluca Petracchi ha 53 anni, il suo ultimo lavoro da direttore sportivo è stato alla Roma. Tifoso bianconero il Gianluca Petracchi è l'opzione migliore per il direttore sportivo della Juve? Commenta lì cosa ne pensi di questa notizia.